Si è classificata seconda! Avete già capito naturalmente di che stiamo parlando? Il suo sogno, per sua stessa missione, è quello di diventare ricca, di sposare Brad Pitt E vabbè, i sogni sono i sogni E avere 11 figli Noi non sappiamo naturalmente se questi desideri si realizzeranno mai E di sicuro ne ha realizzato uno molto importante, diventare una cantante, diventare famosa e realizzare un album Sul palco dell'Antegnate Shopping Center c'è Roberta Bona Ciao ragazzi! Beh, vi chiedo di ballare, so che è difficile Ci proviamo Io ci provo anche se... vabbè Escriviti al piano Grazie a tutti 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 Grazie a tutti